buongiorno a tutti ecco mi sono fermato un attimino e di passaggio sto andando su alla morra quindi per chi sale verso la morra siamo provincia di cuneo scende dalla morra questa strada qui statale trova questa bella panchina per sedersi un attimino ad essere baciati dal sole guardate lì il sole che ci illumina il volto nel frattempo uno si gode le langhe guardate che bello è tutto verde sono tutti tutti viti vigneti tutto vino che troveremo nelle nostre tavole vino buono buonissimo ecce questa panchina andiamo a leggerla saliamo questa mezza botte andiamo a vedere cosa c'è scritto la panca della serenità by alberto alessandria ubac sembra cristante alessandria azienda agricola barolo cristante punto it siedi su questa panca e ritorna bambino lascia leggero calare il pensiero poi sfiorare le le colline del grande buon vino patrimonio prezioso del mondo intero questa è la panca della serenità scendiamo dalle che bella facciamo eccola qua vedete questa era statale l'amore quella lassù si sale altrimenti si va giù verso alba zona alba nel frattempo uno si gode questo bellissimo paesaggio guardate tutto verde poi più avanti sarà tutto è colorato di blu di viola di viola con l'uva quella buona e già se ne vede un po quindi con calma piano piano uno percorre questa strada qui e si gode tutto questo bel paesaggio quindi per andare alla morra o se scendete dalla morra zona cuneo guardate un po fermate un attimino qui uno può mettere la macchina tranquillamente e si gode questo bel paesaggio va bene ci vediamo al prossimo video non mancate è scopriamo questo bellissimo piemonte ciao